ti ho mai detto la definizione del 2020? il 2020 è indossare e indossare la stessa mascherina per il covid ancora e poi ancora pensando che qualcosa cambi questo è il 2020 e poi ho iniziato a vederlo ovunque guardassi ad avere lo stesso cazzo di virus ancora 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 e poi ancora pensando stavolta sarà tutto diverso no 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 dai stavolta sarà tutto diverso mi spiace ma non mi piace il modo in cui sei infettato hai per caso un cazzo di problema crede che ti prenda per il culo? fanculo ok? fanculo ora mi calmo ora mi calmo il fatto è che no? l'ho già sconfitto una volta e non è che io non ci sia riuscito ok? ok è soltanto acqua passata ti ho mai detto qual è la definizione del 2020?